Ci troviamo ad Argente, in provincia di Ferrara, precisamente nell'impianto idrovoro di Sayarino, che è un impianto idrovoro del Consorzio della Bonifica Renana. Oggi si svolge qui una cerimonia di premiazione, un concorso che è iniziato qualche settimana fa e che ha avuto come tema l'acqua e il territorio. Abbiamo instaurato questo rapporto con tutte le scuole dell'Emilia-Romagna, un rapporto che tende ad illustrare le nostre attività, che tende anche ad educare i ragazzi al rispetto dell'acqua, che è un bene finito, è un bene importante, ma che va gestito. Anche noi ormai impariamo dallo studio che le scuole dedicano al territorio. Riceviamo anche modi di pensare e di vedere da questi giovani alunni che alla fine, io penso, abbiano ricavato da queste loro giornate, questi loro studi, un motivo di educazione che porteranno con sé quando saranno adulti.